Sì, non c'è nessuno. I traversi sono la cosa più antipatica. Prima schiacci dietro e poi apri. Occhio a quel bagnato. Prende la cronina. Prende la cronina. Si. Mesi alcuni. Prende la cronina. Prende la cronina. andiamo più in giù il piede è qua e come vuoi? rimetti il piede destro no, dove è il sinistro destro? brava, incrocia e questo lo metti qua ok noi abbiamo quasi finito continuo ad andare avanti scendi con i piedi piano piano ok, puntati bene grazie